L'Italia si è già dimostrando di saper fare bene in tutti i settori, stiamo lavorando per la difesa dei valori dell'Occidente, dei valori liberali in economia, dei valori democratici in politica, sempre per raggiungere un obiettivo, la pace, la pace nella giustizia, quello che stiamo facendo e faremo, l'obiettivo pace sarà l'obiettivo principale da parte nostra, lavoreremo per rinsaldare una cooperazione che l'importante è l'unità. Quando si vuole raggiungere un obiettivo i principali interlocutori delle grandi potenze, penso alla Cina, la Russia, il dialogo con il mondo arabo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Germania, Francia, Italia, Giappone devono essere uniti, avere una visione comune, questo è il lavoro che noi stiamo conducendo e credo che l'Italia abbia già ottenuto questo risultato, già sono partiti messaggi positivi, domenica importanti a favore della pace, lavoreremo lungo questo percorso a Capri nei prossimi 3 giorni e lo farà lo stesso il Presidente del Consiglio quando a Bovegnazia riunirà i leader dei paesi del G7 e dell'Unione Europea.